La vera sfida dei nostri tempi è quella di essere sempre pronti ad affrontare il nuovo che avanza e noi giudici amministrativi non possiamo non accettare questa sfida. Così il presidente del TAR del Veneto, Maurizio Nicolosi, ha concluso il suo intervento nell'udienza pubblica di apertura dell'anno giudiziario a Cavendrabin Calergi, alla presenza tra gli altri del prefetto Carlo Boffi, del presidente della regione Veneto Luca Zaia e dell'assessore comunale all'avvocatura civica Paolo Romor. Nicolosi ha iniziato ricordando il settantesimo anniversario della promulgazione della Costituzione, poi ha sottolineato come il 2017 ha lasciato apprensioni e novità, apprensioni derivanti dal crescente atteggiamento di insofferenza da più parti, visto che i giudici sono accusati di protagonismo per ingerenze in alcuni settori e ho la sensazione che venga rappresentata una realtà distorta e la forza di uno Stato si misura anche con il rispetto dei cittadini nei confronti del ruolo delle istituzioni.